Vai! Vai! Ah, che fisso! Pure lana! E non ce l'ha parlato! Ma! Ma! Mima! Il postino! Giusto! Vai! C'hai 20 secondi dentro per trovare il mago! È fresco! 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vai! 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 3 secondi! 15 20 15 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 16 15 15 senza mangiare e mima il film mima e senza parlare si sbaglia tre volte mi fa anche scena particolare tipo sai vai 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 è la risposta esatta quanto è largo hai sempre venti secondi uno due tre quattro cinque sei quattro 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 e vedi vai avanti vai avanti esatto esatto sempre sul tempo finale se metti il numero va bene corri come sa stare senza capire vai va bene va bene